Grazie a tutti. Ci hanno aiutato a realizzare questo e ringrazio anche le due ragazze che ci trattengono con la musica. Se vengo qua, forse... ...Alecana e Anna. Lascio a loro e poi lascio la parola a Sì. Di nuovo grazie a tutti. La parola a quello che intuisco qui mi parli di poter dire... Vorrei condividere con voi tre pensieri. Uno che è qualcosa che continua ad abbellire la nostra città. Ma le cose fondamentali sono racchiuse, penso, in chi ha realizzato questo e come. Perché il significato è importante che questo è stato fatto da tre istituti comprensivi e qui devo ringraziare chi è riuscito a tenere assieme il progetto con più soggetti. Ma la cosa, penso, più importante è l'educazione civica che trasmette un'opera del genere. Perché se sappiamo che il bello porta bello e il degrado porta degrado, io immagino, mi piace pensare che chi ha realizzato ogni singolo pezzo e chi lo vede passando, è un cittadino sicuramente migliore per il presente e per il futuro. Perché sentono una cosa loro e per proprietà transitiva penso che possano immaginare che, così come darebbe fastidio un vandalismo su questo, è qualcosa di negativo vandalizzare o non avere cura di altri aspetti del nostro territorio. Per cui ha una potenzialità educativa legata all'educazione civica per me straordinaria ed è proprio quello che dobbiamo riuscire a trasmettere ai ragazzi se vi faccio sentire tutto ciò che sta attorno come qualcosa che gli appartiene. Questa è una forza straordinaria. Facciamo fatica, facciamo fatica a fare proprio educazione civica ma con un esempio del genere io penso che sia una chiave importante. E poi adesso basta parola perché sono curioso come tanti di voi, tanti hanno già, perché se sono qui sanno cosa c'è. Io l'ho intuito e ho una forte voglia di vederlo. Vi ringrazio. Chi l'ha realizzato qui non è presente, però penso che sia, non i bambini, i bambini, le ragazze, le scuole, però penso che per quello che ho detto prima, passando, possono sentire loro questa realizzazione e ci auguriamo che possano sentire sempre di più loro questo territorio che davvero abbiamo tanto bisogno. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Tante, tante. Tante. Applausi. Applausi. La mia professora scolastica qui è la responsabile della rete dei laboratori di ceramica. Quindi la sua organizzazione complessiva di questi laboratori che tanto hanno lavorato in questi anni, in tutti i comuni della Carta. Io volevo, per quanto riguarda questo lavoro qui, io volevo innanziare i coloro che hanno permesso questa opera che gli sentono di ascoltare. Perché il Comune è stata sollecita e ci ha permesso di avere questa particolare collocazione, che è molto precisosa, perché si trova tra la pianta di settembre e la città, però senta più di riportare. Sono poi state persone che hanno organizzato tutta la pianta, da quando si trovava l'interno, come questo mosaico di ceramica, poi all'interno, così mi è stato pizzato. Ora sono persone che non sono, come dicevo, rimasto da settembre. Quindi vorrei fare anche un regattamento all'andare in rifugio, se permesso di fare questa situazione, quindi mi riempire tutto il materiale che si trova. E quindi io per me avrei concluso questa mia opera. Adesso quello che dirà, per quanto riguarda l'interno, è anche quello che ha fatto il progetto. Per quanto riguarda l'interno, per quanto riguarda l'interno, è anche quello che ha fatto il progetto. Per quanto riguarda la loro espressione personale, chi lavorando solo sulla superficie e chi ha lavorato sul forno e sul prodotto. Per quanto riguarda l'interno, è anche quello che ha fatto il progetto. I ragazzi hanno utilizzato le argille, quindi si deve portare rossa, nera, bianca, e poi il mio, mi spiegherà, secondo me, in maniera molto più precisa, le tecniche, lo smalto e le letture. Poi una volta che i ragazzi sono stati coppi, sono stati assemblati, secondo me, in un attimo di 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 un attimo. E qui nella stessa maniera abbiamo dovuto associare, in maniera giustosa, anche con due parole, due albero e l'educazione. Se l'educazione è tirare un cuore le risorse tra ragazzi, per poterle poi esprimere le autentiche personale, anche attraverso questo albero noi abbiamo dovuto pensare a delle risorse, delle nuove stracce, per poi dare fiori ai frutti. Ed ecco la parola, come ho fatto poi, nel momento frutti, 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 il nostro futuro e la nostra risolta. Grazie a tutti, grazie a tutti che hanno lavorato a questo progetto, che hanno lavorato a distanza, che hanno saputo lavorare in gruppo, così come in precedenza abbiamo saputo lavorare in gruppo noi, perché tecnicamente la progettazione e l'elaborazione di quelli che erano scelte dal punto di vista figurativo sono state fatte insieme, in occasione di una serie di incontri, con Nacinzia Gallo, che mi ringrazio, che è presente nel pubblico, Laura Candotti, io ed io, e con la collaborazione sempre dei ragazzi che hanno potuto intervenire in maniera operativa su quelle che erano le scelte, sia dal punto di vista delle soluzioni, sia dal punto di vista compositivo, sia soprattutto dal punto di vista della responsabilità della collocazione all'interno dello spazio urbano. Questo per noi è un sistema estremamente importante per insegnare ai ragazzi a lavorare in gruppo, a condividere, a mediare le relazioni e soprattutto a operare delle scelte che siano funzionali, non solo per l'interesse personale, ma per l'interesse dell'intera comunità. Tutta questa attività non si svolge, non nasce dal caso, nasce da un lavoro di collaborazione importantissimo che è partito dalla costituzione di una rete. Lavorare in rete significa lavorare in gruppo e saper individuare dei punti fermi nei quali partire. La rete ha prodotto già delle offere che comunque abbiamo messo in condivisione con l'applicazione. Dal 2009 siamo partiti con il grande progetto che ha coinvolto tutti gli istituti della Carnia e che ha permesso anche di avvicinare ai ragazzi a quella che è la conoscenza pratica del loro territorio attraverso una fase di lavorazione delle terre e un recupero delle terre originarie di tutti i sinti dei paesi restituiti. E si è anche organizzata con la realizzazione di 600 pecore in occasione del presepio di Natale del 2009. Per esempio che è attualmente in esposizione a Sutrio. Siamo passati poi, scusate perché il lavoro è molto lungo, nel 2010 abbiamo individuato ancora una volta il Natale come occasione importante per sottolineare il cuolo della minorità e abbiamo costruito l'albero tridimensionale che attualmente è esposto due pannelli a Sutrio e un pannello alla funcola natività nella parrocchia di Cannaval. Sia per questo sia per esempio a Sutrio contemporaneamente si è sviluppata o si è avvicinata quella che era l'attività dell'educazione all'immagine con la creazione dei primi grandi calendari che sono per noi un motivo d'orgoglio perché tutto sommato rendono pubblico oltre a quella che era la possibilità del passaggio di noi proprio il lavoro importante dei ragazzi. Nel 2014 ha preso forma e concretezza il percorso dallo stato figurativo che trovate esposto in via della cooperativa che è stato inaugurato e che ha coinvolto di nuovo tutti gli istituti insieme che hanno lavorato separatamente ma hanno poi convogliato come i rivoli tutto sommato del nostro territorio in un fiume comune il lavoro. Il 2014 è stato l'anno dei tappetti costruiti insieme contemporaneamente con percorsi delle primarie e delle secondarie di primo grado altro momento importante di condivisione con fraità e di passaggio di consegne. Nel 2016 è stato dato corso al progetto sulle lauree di San Francesco che potete visionare ascendendo la salita della Piede di San Cameriere di Giuglio. Nel 2017 è stato realizzato e ha preso con credenza il calendario e la disposizione dei rosoni all'interno dei singoli comuni o delle scuole e nel 2017 il calendario e il progetto delle tegole per tegole che hanno stato inaugurato e esposto l'anno scorso al Comune di Italia del Museo Carnico e che molto probabilmente troverà una sua collocazione in un altro luogo che è fondamentale per i ragazzi a conoscere ed è la casa di riposo perché solo attraverso un passaggio di testimoni fra generazioni si arriva a percepire il territorio come un patrimonio e un'identità che è comune e che va inserita all'interno di un percorso importantissimo importantissimo soprattutto per i ragazzi per percepirsi in parte concreta e attiva di una comunità. Grazie per la presenza. Grazie. 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 Grazie.